esordisce in teatro nel 1927 nel giro di pochi anni passa dal ruolo di generico a quello di attore brillante dal 1938 al 1940 fa parte della compagnia del teatro Eliseo di Roma interpretando personaggi assai complessi del repertorio classico e moderno nota è la sua appartenenza alla massoneria nell'obbedienza della piazza del Gesù